Riparchiamo dal monumento dopo 12 km di circuito. Tornante in discesa. Altro tornantone. E si scende verso Cappelle Sultano. Cappelle. Siamo arrivati. Cappelle. Siamo arrivati. Cappelle. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Si scende verso Monte Silvano. . un'altra volta l'onda non c'entra qui si va verso il Monte Silbano, tutto rettilineo non c'entra non mentale non c'entra non c'entra non c'entra non 준말 non c'entra Grazie. Grazie. Grazie.